eccoci qui per la seconda puntata della serie sulla programmazione neurolinguistica e oggi andremo a parlare di empatia perché l'empatia è fondamentale in questa disciplina scarica ora il report gratuito pianelle motivazione in pdf e scarica gratuitamente anche il brano subliminale aumenta la tua pace interiore grazie al link che c'è in descrizione in tanti si illudono che si possa fare a meno di questa straordinaria capacità in realtà senza empatia non si può applicare bene la programmazione neurolinguistica ma che cos'è l'empatia l'empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri e questo è molto importante perché noi da piccoli da bambini abbiamo tutti questa straordinaria capacità se un nostro amichetto cade e comincia a piangere quando siamo molto piccoli a un certo punto iniziamo a piangere anche noi perché siamo così in sintonia con gli altri da piccoli che tant'è che noi non riusciamo a distinguere le nostre emozioni da quelli degli altri che se vediamo uno piangere piangiamo se vediamo uno ridere ridiamo anche noi e così via poi man mano che cresciamo cominciamo a distinguere i nostri stati interiori da quelli altrui ma forse lo facciamo fin troppo bene tanto che se addirittura vediamo qualcuno che sta male in mezzo alla strada il più delle volte ci giriamo dall'altra parte o addirittura li passiamo sopra quasi come se fosse un ingombro dice guarda questo che sta male che sta dando fastidio sembra che stia esagerando ma chi vive in una grande città sa di che cosa sto parlando purtroppo ora attenzione empatia è diversa da simpatia io posso avere un amico in simpatia no perché mi fa tanto ridere ma non vuol dire che io mi fidi di questa persona quanti di noi conoscono persone simpaticissime ma alle quali non darebbero mai le chiavi di casa o le chiavi della macchina empatia invece implica fiducia quindi quando una persona è empatica la sentiamo empatica quindi la sentiamo nelle nostre corde la sentiamo simile a noi sentiamo di poterci mettere nei suoi panni sentiamo che questa persona si mette nei nostri panni questa persona ha costruito un rapporto empatico con noi questo è molto molto potente perché perché implica fiducia quindi quando questa persona mi chiederà le chiavi di casa o le chiavi della macchina per me sarà più facile dare le chiavi e quindi questo è assolutamente importante da prendere in considerazione se io voglio costruire dei rapporti costruttivi se io voglio migliorare le mie relazioni con gli altri molti si avvicinano ai temi della pnl semplicemente pensando per quanto riguarda la comunicazione efficace pensando che si possa manipolare gli altri no adesso uso una tecnica che gli faccio fare quello che voglio ah 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 e li vedi poi in delirio di onnipotenza no che si fanno questa risatina in realtà se stai cercando questo nella pnl sei completamente fuori strada magari troverai anche qualche trainer con qualche mezzo delirio di onnipotenza che ti dirà queste cose ma in realtà noi insegniamo una cosa diversa insegniamo a creare rapporti costruttivi rapporti empatici dove la gente si fida di noi ma dove anche noi ci fidiamo di queste persone questa chiave di volta è molto importante in un libro intelligenza emotiva di daniel goleman si cita per esempio un esperimento interessante prendono due persone due impiegati uno molto bravo tecnicamente ma poco empatico quindi quasi incapace nel mettersi nei panni degli altri quindi nel costruire rapporti empatici e relazioni funzionali positive poi invece c'era una persona un po meno preparata anzi diciamo abbastanza meno preparata di quest'altro ma molto più abile nel creare rapporti empatici a questi due impiegati hanno dato gli stessi identici compiti il primo che riesce svolgere i compiti diciamo che vince questa specie di sfida che cosa è successo che a un certo punto chi è arrivato per il primo beh penso che sei già la risposta chi è arrivato per il primo è stato proprio quello meno preparato ma con un sacco di rapporti empatici perché tutte le volte che non riusciva a fare qualcosa c'era sempre un amico un collega disposto ad aiutarlo non so ah non so come fare questa cosa cosa posso fare e quella persona a un certo punto gli spiegava esattamente cosa doveva fare invece l'altra persona molto brava tecnicamente fu costretta a fare tutto da sola anche perché non c'erano persone disposte ad aiutarlo ma non perché lo odiassero semplicemente perché non essendoci un rapporto empatico né lui andava a chiedere ma se anche fosse andato da qualcuno probabilmente quella persona non avendo un rapporto empatico avrebbe potuto rispondere guarda in questo momento sono occupato passa più tardi cosa invece diversa per quell'altro impiegato in grado di creare rapporti empatici ora capisci quanto è importante questo quanto è importante in un ambiente lavorativo quanto è importante anche in un ambiente privato a casa con parenti con amici a una riunione condominiale ma questa cosa è fondamentale perché se riesci a costruire una rete di rapporti empatici alla famosa riunione di condominio ci sarà sempre quello ingestibile che rompe le scatole a tutti però se tu riesci a creare una rete di supporto avrai più persone che ti portano avanti più persone che se tu hai un'idea andranno a supportarla e questo vale nel lavoro vale nella vita privata vale in tutto vale persino in un rapporto genitori figli figli genitori ecco perché è così importante ma poi anche importante anche nell'ambito del coaching della terapia in generale il fatto di essere in grado di mettersi nei panni dell'altro vuol dire che l'altro si apre c'è maggiore fiducia e se c'è maggiore fiducia a un certo punto parla più facilmente perché si fida e quindi racconta esattamente le cose così come sono per un coach è fondamentale che ci sia un rapporto empatico col suo cliente perché altrimenti il cliente non ti racconta bene tutto e tu alla fine non hai sufficienti elementi per poterci lavorare vado a leggere qualcosa dal mio libro i poteri segreti della comunicazione empatica empatia è la capacità di sintonizzarsi emotivamente con i propri interlocutori creando un rapporto costruttivo ed efficace questa abilità è chiamata rapport creare rapport la capacità di creare empatia è comune a tutti i comunicatori efficaci leader venditori eccellenti terapeuti efficaci e seduttori come è possibile sintonizzarsi con i nostri interlocutori ad esempio ericsson milton ericsson parlava nello stesso modo del paziente ecco questo è un esempio di similitudine molto importante esistono moltissimi modi per sintonizzarsi con i nostri interlocutori avete mai visto una coppia di innamorati seduti al bar quando sono uno di fronte all'altra hanno la medesima postura se uno è appoggiato al tavolino reggendosi il mento con una mano anche l'altra persona assume la stessa identica postura ecco questa cosa qui interessante nell'innamoramento quindi quando due persone sono innamorate ma anche quando due amici sono in perfetto feeling e sintonia tendono a rispecchiarsi con la postura proprio come se fossero di fronte uno specchio tu stai con le braccia concerti anche lui con le braccia concerti si parla sempre dell'innamoramento ma non è solo quello infatti questo capita anche quando tu prendi un argomento che all'altro interessa di colpo vedi quello che ti comincia a rispecchiare e dici cavolo come mai questo mi sta imitando nella postura anche se ti assicuro che nel 99 per cento dei casi nessuno si accorge mai di questa strategia inconscia questo accade perché quando l'inconscio è interessato al suo interlocutore quindi alla persona che abbiamo di fronte a un certo punto metti in atto delle strategie come quella del rispecchiamento anche chiamata mirroring mettendosi nella stessa identica postura l'inconscio dell'altro va a leggere attraverso i neuroni specchio va a leggere questi segnali di similitudine quindi è come se il nostro inconscio quando rispecchiamo l'altro è come se dicesse io sono simile a te l'altro legge questo segnale e quindi si fida abbassare difese ed è molto 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 più efficace relazionarsi con l'altra persona è molto più efficace poi proporre qualcosa generare consenso infatti da qui poi che cosa succede che tutte le volte che vogliamo creare empatia con qualcuno che non conosciamo la prima cosa da fare è cercare di imitare la postura ovviamente senza scimmiottare troppo ovviamente senza farlo in tempo reale perché se l'altro cambia postura per esempio da avere braccia concerte le apre non lo devo fare immediatamente perché se no l'altro si accorge che lo sto rispecchiando l'altro apre le braccia io rimango con le braccia concerte quando il mio turno di parlare lo farò anch'io poi non è che devo rispecchiare tutto al cento per cento se l'altro si gratta non è che mi gratterò anch'io ecco ci vuole ovviamente buon senso però se fai questa cosa per esempio quando il tuo turno di parlare nel cambiare postura vedrai che le cose funzionano funzionano molto bene questa è stata una delle prime tecniche che ho applicato nella mia vita quando ho iniziato da lievo proprio studiando la programmazione neurolinguistica mi ha cambiato tanto 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 la vita perché mi ha permesso di cominciare a generare più rapporti empatici però ricordati non è che soltanto l'altro entra in empatia entri anche tu in empatia entrando in empatia anche tu riesce a sentire meglio l'altro inconsciamente ti sintonizzi su di lui riesci a sentire effettivamente quelli che sono realmente i suoi bisogni e questo lo senti a un livello molto profondo quindi c'è maggiore sintonia tra voi due questo vuol dire che saprai anche usare le parole giuste al momento giusto questo ti permetterà proprio di generare quello che viene chiamato tecnicamente un rapporto empatico scarica ora il report gratuito pianelle motivazione in pdf e scarica gratuitamente anche il brano subliminale aumenta la tua pace interiore grazie al link che c'è in descrizione bene spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando like e pollicione in su condividilo con i tuoi amici se non ti sei ancora iscritto al canale mi raccomando iscriviti adesso e clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video io ti mando un abbraccio un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao